Buona giornata. Luca oggi ci presenta un quesito particolarmente ostico, perché è un tipo di quesito che ha percorso non solo i contemporanei di Gesù, ma è ancora attuale. Il quesito è quali segni abbiamo della presenza di Gesù, dell'efficacia della Sua parola, del fatto che sia realmente vita e salvezza anche per noi oggi. Spesse volte noi cerchiamo di interpretare i segni dei tempi e molto spesso sbagliamo. In questi giorni probabilmente ciascuno di noi ha cercato di leggere quello che sta succedendo, ma non è che forse la domanda è posta un po' male. Forse anche noi dovremmo porci la vera domanda, non se le cose che succedono attorno a noi sono un segno di qualcosa, ma noi oggi di che cosa siamo segno? Dell'inquietudine, dell'incertezza, della paura, dei problemi, oppure siamo segno della speranza, della fede, della gioia. Buona giornata.